Concluso il torneo regionale d'eccellenza, è ora di pensare alla post-season. Il Macchia, già vincitrice del campionato, ha chiuso con una sconfitta la sua trionfale stagione. Domani all'Ancellotta si disputerà alle ore 15 la semifinale play-off, gara secca tra i Serni e Treppini. Ospiti che nell'ultima giornata di campionato hanno battuto la cliternina per 5-3. La vincente sfiderà nella finalissima in programma il 14 maggio al Ditella e il vasto Girardi che ha superato per 3-0 il Venafro con la rete di De Paola e la doppietta di Perrella, piazzandosi così a secondo posto dell'eccellenza molisana appena conclusasi, guadagnandosi direttamente il diritto alla finale play-off, dato il vantaggio sul quinto classificato Venafro. L'attesa è quella delle grandi occasioni, sarà un sabato speciale, un match che metterà di fronte terza e quarta forza del girone per una gara dall'esito aperto. Sulla carta partono favoriti i padroni di casa, la compagine di Sernina che è il miglior piazzamento, non solo gioca tra le mura amiche ma ha anche la possibilità di pareggiare l'incontro. Più che soddisfatto il mister di Rienzo che ora vuole solo andare avanti e aggiudicarsi il pass per la finale. Obiettivo che interessa a tutti, società, squadra e tifoseria. L'Isernia ci crede e non vuole fallire. In settimana il giovane trenere di Sernino ha lavorato molto sia da un punto di vista tattico che motivazionale, consapevole del fatto che i suoi ragazzi non potranno farsi prendere dall'ansia del risultato e che l'importante è rimanere lucidi dall'inizio fino alla fine. Bisogna anche considerare che a livello statistico è la prima volta che una squadra così giovane raggiunge una finale playoff. I ragazzi stanno bene, tutti vogliono dimostrare di essere all'altezza della situazione e di poter dare un contributo importante alla causa. La formazione è quasi fatta ma l'undici che ha giocato domenica scorsa con il Guglionisi si è mosso bene e così di Rienzo non dovrebbe cambiare molto le cose fatta eccezione per il ritorno in squadra di Lucas Cantoro che ha dovuto scontare un turno di squalifica ma il tecnico dei Biancocelesti dovrà fare a meno di Leonardo che è entrato in questi giorni da un infortunio. La società PEN tra spera che domani all'Ancellotta ci sia il pubblico delle grandi occasioni una tifoseria biancoceleste che possa sostenere e stare vicino alla squadra in una partita così importante. Si deve anche ricordare che contro la formazione del Treppini in regular season i biancocelesti si sono imposti sia all'andata 1-0 in terra campana che al ritorno 4-2 ed ora i pentri vogliono dare seguito a quel detto popolare che recita non c'è due senza tre. Dall'altra parte il Treppini può vantare tra le sue file il capocannoniere del girone Daniele Napoletano giocatore bianco-verde che si è sempre ben distinto durante la stagione. Per quanto riguarda la formazione da schierare in campo sono rimasti pochi 98 a disposizione e quindi il tecnico palazzo non ha molta scelta anche se rispetto al sabato scorso non sono previsti stravolgimenti. Il trainer dei bianco-verde è stato categorico guai a sottovalutare l'avversario. Il Treppini non può sbagliare, vuole e deve vincere per tenere nel mirino la finalissima con il vasto Girardi. Dunque come spesso succede in questi palcoscenici sarà fondamentale la componente mentale. Sarà quindi una partita giocata sul filo dei nervi e della tensione, dove un piccolo episodio può fare la differenza. Gare come questa si giocano molto più con la testa che con le gambe. E ora veniamo al regolamento del gioco. In caso di parità al termine dei 90 minuti saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità accederà alla finale la società meglio classificata al termine della regular season. Che vinca il migliore?